Grazie a tutti. Partiamo dal nostro portale utvrs.it dove abbiamo un'apertura dedicata alla politica amministrativa Fano. Luca Serfilippi è il candidato del centro-destra. Oggi c'è stata una conferenza stampa di presentazione nella quale c'eravamo anche noi di TVRS, 33 anni, candidato sindaco per Fano, alle prossime amministrative. Dalle 2011 al 2014 è stato assessore sotto il mandato di Stefano Guzzi, una candidatura che appunto viene dal centro-destra. E vediamo appunto gli sviluppi, continueremo a seguirli. L'articolo è del nostro Lino Balestra. E di spalla una notizia di cronaca, auto in fiamme lungo la strada, salvo il conducente. L'intervento dei vigili del fuoco in provincia di Macerata, questa mattina a Mogliano, un incendio lungo la strada provinciale, 34. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, l'aria è stata messa in sicurezza e il proprietario dell'auto è sceso dal veicolo in colume prima che la macchina prendesse completamente fuoco. Il Corriere Adriatico, vediamo in primo piano, l'ite in famiglia, finisce con un colpo di pistola. Ferito il vice sindaco, arrestato la moglie, siamo ad Acquastanta Terme. Una vicenda che ha fatto molto parlare oggi, della quale ci siamo occupati anche nel nostro telegiornale All News. E poi di spalla l'inchiesta del Corriere Adriatico, l'accordo d'oro tra Ati e Mero Italia, 750 mila euro dei marchigiani per un logo sull'aereo e una pagina web. Ritorna ancora un argomento bollente di questo periodo, ossia l'aeroporto Sanse con il caos e tanti problemi da risolvere. E poi ancora il governatore presenta il programma del turismo, Acquaroli dice 60 milioni in tre anni, il direttore dell'ATIM non viene citato. Ancora per quanto riguarda l'aeroporto e poi altre notizie dalle altre province. A Macerata, Macerata e Dog Friendly, l'assessore comunale Laviano annuncia gli interventi. Sì, è un'iniziativa molto molto interessante. Infine, l'Ansa Marche spara al marito durante una lite, appunto arrestata. Parliamo di Annalisa Giusti, siamo al tribunale di Ascoli Piceno, convalidato l'arresto di Giovanna Pompei, la donna appunto di Acquasanta Terme, che è stata accusata di tentato omicidio nei confronti del marito, come abbiamo detto poco fa dal Corriere Adriatico. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio scorsi, al culmine di una discussione tra i due coniugi. Non si sa se il colpo sia partito accidentalmente o se ci fosse veramente un tentato omicidio. E ancora l'Ansa in debiti redditi di cittadinanza nelle Marche. 16 milioni di euro in tre anni, dalle 2021 al 2023 sono state accertate in debite percezioni del reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 16 milioni 338 mila 722 euro. Emerge dalla relazione della procuratrice regionale della Corte dei Conti delle Marche. E ancora volano le farfalle sulla disabilità, un film tutto made in Pesaro che corre per il David di Donatello. Seguiremo anche questo film, i risvolti di questo fatto che riguarda, ricordiamo, una ragazza con seri problemi e è la sua storia che viene raccontata in un film appunto per superare la disabilità senza arrendersi. La vera storia di Giorgia Righi, che ha una malattia genetica rara e degenerativa. Anche di questo ce ne siamo occupati nel nostro notiziario. Adesso io vengo da Andrea Biancani, con il quale gli argomenti sono tantissimi. Primissima domanda, un flash su Pesaro Capitale della Cultura 2024. Come sta andando? Mancano degli stanziamenti? Beh, devo dire che è sicuramente una grandissima occasione per l'intero territorio, non solamente per la città di Pesaro. Ottima la scelta che ha fatto il Comune di coinvolgere tutti i comuni della provincia, quello che viene chiamato 50 per 50. Attualmente le risorse, il milione promesso da parte della regione è stato stanziato, anche se abbiamo dovuto lavorare parecchio per riuscire ad avere tutti i soldi che erano stati promessi. In questi giorni è stato presentato il piano della cultura. Devo dire che sono rimasto un po' deluso, perché non c'è niente da parte dell'ente regionale per poter sostenere tutti quei 50 comuni che hanno deciso di essere coinvolti, che il Comune di Pesaro ha coinvolto. Penso che sia assurdo che sia il Comune di Pesaro dover prevedere risorse per sostenere i comuni che faranno iniziative, o ogni comune avrà una settimana dedicata, e quindi chiederò alla regione di sostenere tutte queste piccole realtà che hanno aderito e che contribuiranno a rendere tutto il territorio regionale conosciuto a livello nazionale. Andiamo sulla sanità. Lei ha chiesto lo stop dell'impiego di medici gettonisti delle società private negli ospedali pubblici. La proposta prevedeva contratti direttamente con i medici, ma la regione preferisce continuare con i gettonisti. Beh, io ho fatto questa proposta, in realtà ho fatto due proposte. Una è una proposta di legge che ancora deve essere vista in commissione. Devo dire che questo è un aspetto molto negativo, perché è una proposta di legge che era indirizzata alle Camere, dove prevedeva una tariffa oraria per i medici gettoni. Oggi questi specialisti vengono pagati senza una vera e propria tariffa. Diciamo che ogni società, ogni cooperativa fa la sua tariffa, quindi tu puoi pagare un medico una tariffa oraria, un tot nelle Marche, un tot in Emilia Romagna, un tot in Lombardia. A mio avviso lo Stato dovrebbe definire quant'è la tariffa di un medico gettone, ma soprattutto la cosa che è grave è che questi medici gettone non devono garantire la stessa professionalità che viene richiesta a un medico interno assunto a tempo indeterminato e soprattutto molto spesso guadagnano fino a 3-4 volte un medico interno. Quindi non c'è neppure una equità contributiva. Da una parte non c'è la stessa formazione, la stessa specializzazione, ma dall'altra addirittura c'è un costo che può raggiungere 3-4 volte rispetto a quello di un medico che invece ha quella professionalità e che viene assunto a tempo indeterminato. Questa è una richiesta che avevo fatto in una proposta di legge, purtroppo come ho già detto è ferma. L'altra richiesta che avevo fatto è di lasciare questa modalità che ha le marche, cioè di fare direttamente contratti con queste società che propongono i professionisti. La regione della Lombardia non fa più contratti con questa società, ma ha fatto un bando a livello regionale, quindi fa contratti direttamente con i libri professionisti. E questo sta portando in Lombardia a una tariffa oraria che comunque viene definita a livello regionale che è compatibile, comunque sovrapponibile con quella dei medici assunti a tempo indeterminato. Perché questo utilizzo dei medici a gettone sta aumentando anche la fuga dei medici che sono assunti nel sistema pubblico, perché si vedono medici esterni che a volte hanno una professionalità minore, ma che addirittura guadagnano molto di più. E quindi i medici gli viene da dire, ma io perché devo lavorare a tempo indeterminato, devo fare tutti i turni, devo fare i turni anche quelli meno vantaggiosi, quelli più complicati e ritrovarmi uno stipendio molto più basso. Questo è un aspetto molto importante che va chiarito. I disturbi psichiatrici alimentari sono in aumento, ma anche qui mancano i medici. Beh, devo dire che il tema della psichiatria in generale è un tema importante. A livello pubblico gli psichiatri sono sotto organico rispetto al numero che sarebbe necessario. Per quanto riguarda la provincia di Pesero-Rubino, in particolar modo l'ambito che riguarda Pesero e Fano, i medici dovrebbero essere almeno 18, attualmente sono in 10, quindi sono completamente sotto organico, e quindi fa una difficoltà a rispondere a tutte le esigenze che ci sono. L'Asta ha fatto comunque un bando, adesso sta cercando di assumere nuovi medici a tempo indeterminato, perché fino ad oggi sono stati fatti bandi a tempo determinato, ovviamente non partecipava praticamente nessuno. Uno dei temi che mi dicevi importante è quello dei disturbi alimentari. Dopo il Covid sono aumentati in maniera esponenziale le persone, soprattutto giovani, donne e ragazzi che soffrono di questi disturbi. Il servizio del centro per i disturbi alimentari del nostro territorio di riferimento è Galantara. Attualmente c'è in servizio solamente uno psichiatra, non è sicuramente sufficiente, e ho chiesto più volte in aula, anche con interrogazioni, di prevedere almeno il raddoppio di questo personale medico, ma sapendo che quando si parla di disturbi alimentari non è solamente lo psichiatra che è necessario, ma servono tutta una serie di figure professionali che sono necessarie per avere una vera e propria equip in grado di valutare e poi dare una mano alla persona colpita. Edilizia pubblica ed ERAP sono oggetti di una sua interrogazione presentata in consiglio, le case ci sono, ma restano vuote? Dove si trovano questi alloggi? Devo dire che a livello regionale abbiamo circa 15.000, oltre 15.000 alloggi che gestisce l'ERAP. Di questi 15.000 alloggi i dati dicono che 1.500 sono liberi ma non sono utilizzati. Non sono utilizzati perché molto spesso sono necessari piccoli interventi di manutenzione. Solo nella provincia di Pesurubino abbiamo di questi 15.000, 3.200 sono nella provincia di Pesurubino e di questi 3.200 attualmente oltre 250 sono vuoti perché necessitano di avere piccoli interventi di manutenzione. Quando parlo di piccoli interventi mi riferisco a importi che vanno dai 10 ai 20.000 euro, quindi veramente cifre molto piccole e molto ridotte. Una parte di questi immobili non vengono utilizzati per problemi burocratici, ma la gran parte appunto perché necessitano di manutenzione. Sono centinaia e centinaia, per non dire migliaia, a livello della provincia di Pesurubino di persone che hanno partecipato ai bandi per poter avere un appartamento di edilizia pubblica e ci ritroviamo che abbiamo da una parte una richiesta che è aumentata nel corso degli anni e dall'altra parte abbiamo appartamenti vuoti che non possono essere assegnati perché necessitano di piccoli interventi. Quindi quello che chiedo nell'interrogazione è di mettere subito dei fondi non per realizzare nuovi edifici dove ci vogliono anni poi per poterli avere disponibili, ma per riuscire a recuperare, a sistemare quegli alloggi che già ci sono e già si riuscirebbe a dare una risposta molto importante. Alloggi, scusami se la faccio lunga, che oggi non riesci a trovare neppure che ha un lavoro buono, che ha un buon reddito. Quindi oggi i locali in affitto, gli appartamenti in affitto non ci sono per nessuno. Voi pensate se ci possono essere per le persone in difficoltà economica che hanno un disabile in casa, che hanno una persona con una grave malattia, un anziano o comunque famiglie che hanno una fragilità economica, ma anche a volte alla fragilità economica si abbina una fragilità di tipo sociale o di tipo anche medico e quindi è importante che questi appartamenti vengano messi a disposizione perché la casa è la prima cosa importante per ognuno di noi. La crisi idrica è un altro tema per il quale si batte, è una vera emergenza, dunque acquedotti in basi... Devo dire che su questa questione della crisi idrica sto facendo una battaglia che perché le persone, ma soprattutto chi ha un ruolo politico, a me sembra che non si rende conto del problema. È un problema che è importantissimo. L'acqua non si compra, quindi se l'acqua c'è o non c'è, se non ci fosse non è che tu la puoi comprare da un'altra parte. L'acqua o la prendi dal tuo territorio o non ce l'hai. Senz'acqua non c'è la vita, senza acqua non è possibile vivere, ma soprattutto pensare di rimanere senza acqua nel periodo estivo quando c'è il turismo vorrebbe dire che andrebbe in crisi un'intera economia ma sono le stesse aziende che hanno bisogno dell'acqua nei loro percorsi produttivi. Si sta parlando di questo invasio sì, in questo invasio no, ancora se siamo fermi sulla carta non si è deciso nulla, non si sa se si farà o non si farà. Stiamo parlando di pulire i tre invasi, cioè i tre invasi lungo il Metauro, San Lazzaro, l'invasio della diga del Furlo e un altro invasio. Di questi invasi due ancora non si sa quando inizieranno i lavori. Per quanto riguarda l'invasio del Furlo, addirittura si è annunciato che verranno tolti 75 mila metri cubi. Sono andato a vedere a quanto corrispondono, 75 mila metri cubi praticamente sono il 20% di quello che dovrebbe essere rimosso, quindi parliamo di quasi nulla. Sono anni che stiamo parlando di pulire l'invasio del Furlo, quando si interviene si interviene con una pulizia che potrà portare al massimo in più 10% rispetto a quello che oggi può contenere l'invasio. Quindi è un tema importante, la politica se ne deve far carico, deve individuare in tempi brevi quello che è una soluzione, altrimenti noi rischiamo di rimanere senza acqua. Io sostengo anche che è importante prevedere un impianto di dessalinizzazione delle acque marine, perché nel momento in cui l'acqua non ci dovesse essere, l'unica opportunità che possiamo avere è che acqua che abbiamo in abbondanza è l'acqua del mare. Sono consapevole che ha investimenti importanti, ma dal mio punto di vista un impianto che almeno riesce a servire la costa, cioè Pesaro e Fano, secondo me è fondamentale, perché se no rischiamo di far rimanere tutto l'entroterra senza acqua, è anche la città di Pesaro e di Fano. E scusami, quando manca l'acqua, paradossalmente, le prime località che rimangono senza acqua è l'entroterra. Quindi un impianto di dessalinizzazione è importante anche per garantire sia l'entroterra che la costa, appunto, l'acqua. Facciamo un piccolo break, tornando sui siti, un paio di notizie da cronachemaceratesi.it. I carabinieri hanno trovato Olga Part. Era in un bar a Civitanova, telefono rotto e documenti smarriti. Le ricerche della 35enne ucraina, che era scomparsa da pochissimi giorni, erano scattate quando la famiglia si era rivolta a chi l'ha visto. Non era scomparsa, però per fortuna ha raccontato ai militari che aveva avuto un problema con il cellulare, per questo non era più riuscita a contattare i parenti. Vedete la foto di Olga Part, questa bellissima ragazza ucraina, 35enne, che è stata ritrovata. Ci spostiamo su Vivere Pesaro, dove si parla del meteo, pioggia e vento. Arriva l'area polare marittima. Dopo il grande caldo, nelle prossime ore, Pesaro e le zone circostanti, ma probabilmente tutta la regione, si prepara ad affrontare un cambiamento nelle condizioni meteo, una perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale, con un'area polare marittima, sta influenzando il clima della regione Marche, portando a un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche. Sarà così, almeno fino al 24, c'è un'allerta meteo della protezione civile, fino a sabato sera. In evidenza, anche meno sprechi alimentari, più sostegno alle famiglie in difficoltà, da oggi, nell'ATS1, c'è il nuovo furgone refrigerato, naturalmente sempre a Pesaro, e poi gli spettacoli con lo spettacolo di Brusilla, che è stato rinviato al Teatro Rossini. Io torno a bomba su Andrea Biancani, andiamo sugli impianti fotovoltaici, sui terreni agricoli, perché lei dice no? Io devo dire che in questi giorni, queste settimane, ho partecipato a diverse iniziative, organizzate da diversi comitati, perché purtroppo dal 2021 gli impianti fotovoltaici vengono considerati impianti strategici e di interesse pubblico. Questo fa sì che devono, in molti casi, sufficiente una normale autorizzazione, o meglio, una normale richiesta alle amministrazioni comunali per poter installare impianti anche importanti. Io sono per dire no agli impianti fotovoltaici nei terreni agricoli, ritengo che i terreni agricoli debbano essere utilizzati appunto per fare agricoltura, cioè per produrre cibo. Sono importantissimi, sicuramente gli impianti fotovoltaici sono importanti, io non sono contro le energie rinnovabili, ma dico che ci sono tanti posti dove poterli installare, in primi sintetti di quelli che sono i fabbricati, sopra i tetti delle aziende, nelle aree degradate, in quelle che sono le aree industriali, ma sicuramente no sopra i terreni agricoli. Nelle zone agricole si possono mettere sopra i campanoni agricoli, si possono mettere sopra i piazzali, ma non compresi gli impianti agrivoltaici che l'Unione Europea in qualche modo promuove tanto, che sono impianti che sono posizionati a una quota alti, non a livello del terreno, ma che consentono, secondo loro, di poter coltivare sotto un impianto fotovoltaico. Io non conosco una coltivazione che sta bene all'ombra, quindi che cresce bene sotto un impianto fotovoltaico, e non conosco neppure i trattori che sono in grado poi di muoversi lungo i palli che sono necessari per tenere gli impianti fotovoltaici. Quindi a livello regionale ho chiesto, stanno portando avanti una legge che dovrebbe essere già stata approvata in commissione e che andrà in aula, non so se sarà sufficiente per bloccare tutti gli impianti fotovoltaici, ma comunque che debba venire dalla politica un no secco agli impianti sui terreni agricoli, dal mio punto di vista, è sicuramente una cosa saggia, anche perché noi nel futuro dobbiamo pensare al nostro panorama, dobbiamo pensare al nostro paesaggio, alle nostre eccellenze. Ovviamente se tu consenti agli agricoltori di poter installare gli impianti fotovoltaici rispetto a quello che è il reddito che dà oggi l'agricoltura, io voglio sfidare qual è quel soggetto agricolo che preferisce continuare a piantare le varie colture e invece rispetto a mettere gli impianti fotovoltaici, che renderebbero molto di più, ma noi dobbiamo invece puntare sulla nostra eccellenza e riconoscere il giusto prezzo agli agricoltori, ma dire no agli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli. Alla gente interessa sapere se si candiderà alle elezioni del prossimo giugno? Già il fatto che la gente gli interessa è comunque un aspetto positivo, io devo dire che a tutt'oggi non mi sono mai candidato, ma mi è stato chiesto se ero a disposizione ormai diversi mesi fa, io ho ribadito sia anche Mezzostampa, anche attraverso di voi, che sono comunque disponibile a essere candidato sindaco, ovviamente sto parlando della città di Pesaro, a tutt'oggi ancora la coalizione di centrosinistra, che a Pesaro è una coalizione molto ampia, perché va dai 5 Stelle ai Verdi, al Partito Democratico, a diverse liste civiche, ad altri partiti che mi auguro si vogliono entrare nella squadra, e quindi io sto aspettando di capire quella che è la decisione, prima di tutto del Partito Democratico, e poi quella che è la coalizione, per capire se sarò o non sarò io il candidato sindaco nella città di Pesaro. Ecco, ci saranno le primarie nel PD? Ma attualmente diciamo che è stata fatta una verifica all'interno di quelli che sono gli iscritti, tra le persone del PD che potevano avere maggiori chance, e quindi questa verifica è stata fatta, io so che il partito sta cercando di trovare la sintesi per trovare un candidato unitario, e mi auguro che non ci siano le primarie, perché dal mio punto di vista le primarie sono solamente un'occasione, molto spesso non solamente un'occasione di sconto, un'occasione dove non si risolvono quelli che sono i problemi, gli attriti interni, l'interno dei partiti, ma anzi dal mio punto di vista molto spesso le tensioni che ci sono, anzi vengono amplificate, e quindi mi auguro che ci sia la voglia di condividere un percorso unitario, e di individuare un nome che sia quello più forte, ma soprattutto quello gradito a tutta la coalizione. Vedremo, perché al momento i nomi sono tre, il suo, quello del vice sindaco Daniele Vimini e dell'extrasessore Sara Mingucci. Sara Mingucci, sì. Tantissimi comuni comunque andranno a votare nelle Marche? Oltre 30 nella nostra provincia, mi sembra 36, quindi un numero veramente importante, e anche nella regione. Oltre la metà, anche a livello regionale, sono veramente tanti, e sarà veramente anche un punto per fare il punto rispetto a quello che è l'attività, sia del governo anche regionale, soprattutto, forse non tanto a livello nazionale, ma sicuramente a livello regionale sarà veramente un bel banco di prova. Ci sono delle novità per quanto riguarda il terzo mandato? Ci sono delle novità, novità fresche e fresche, fresche e fresche, sopra i 15 mila abitanti. Sopra i 15 mila, perché il governo ha presentato un emendamento che prevede la possibilità di fare il terzo mandato fino ai 15 mila abitanti, la Lega ha presentato un ulteriore emendamento che consentiva ai tutti i presiditi di regione di poter fare il terzo mandato e l'aveva allargato a tutti i sindaci. Attualmente mi dicono che in Commissione la Lega ha ritirato l'emendamento, o meglio, quella parte di emendamento che consentiva di fare i tre mandati a tutti i sindaci, presentando un emendamento solo per i presenti di regione. Voglio però dire un altro aspetto. Non si capisce perché uno possa fare, ad esempio, l'assessore comunale o regionale, o fare il consiglio regionale, o fare il parlamentare per un numero infinito di volte. Ricordo che nella prima Repubblica, ma anche ora adesso, ci sono parlamentari che sono al settimo, ottavo, alla nonna legislatura, e quando invece ci sono altre figure istituzionali per cui viene dato un tempo limitato. O il tempo limitato lo si dà a tutti, o si definisce per tutti un limite massimo mentre poter fare le quali attività sempre nello stesso ente. Bene, termina qui la prima parte di fatti e commenti. ringrazio tantissimo il vicepresidente del Consiglio regionale, Andrea Biancani, è stato un grande piacere. Io ringrazio voi di avermi invitato e auguro ovviamente la buona notte a tutti. Per quanto mi riguarda, se mi volete rinvitare, sono veramente molto contento di poter raccontare tutta l'attività che porto avanti a livello regionale. Così continueremo a parlare di quello che oggi non siamo riusciti a discutere. L'appuntamento è a tra pochissimo, ancora con Siti e nuovo ospite. Grazie. 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 Grazie.